Il Guionese infila la quarta vittoria su quattro gare in campionato e si mantiene a punteggio pieno in testa alla classifica con il vasto Girardi, ma dopo aver gettato il cuore oltre l'ostacolo, rappresentato da un Boiano aggressivo e ben organizzato. All'ottavo, Nero Verdi pericolosi con Sivilla che entra in area impegnando subito Borreca. Il Boiano non sta a guardare e al ventesimo Mauriello cerca la porta dalla distanza, Silvestri è attento così come al trentunesimo su un'altra conclusione dello stesso fantasista Matesino. Al quarantunesimo però arriva il primo punto di svolta del match, pallone vagante in area del Guionese con Davide Sacchetti che cerca di intervenire. Per l'arbitro di Domenico disegna però con un braccio e indicando subito il dischetto. Sul pallone va Mauriello che non sbaglia e fa 0 a 1. Nella ripresa il Guionese è subito arrembante e al secondo Tarquini si trova tra i piedi il pallone del possibile 1 a 1 ma spara alto. Al decimo però l'attaccante di casa si riscatta, azione travolgente di Marino che c'entra il palo ma sulla ribattuta è proprio Tarquini ad anticipare tutti per l'1 a 1. Al sedicesimo episodio contestato in area Matesina, Sivilla prova ad inquonearsi nelle maie della difesa del Boiano, sulle mani interviene così su di lui ma per l'arbitro di Domenico è tutto regolare. A sedicesimo la gara si complica ulteriormente per il Boiano, pazienza contro la Stavotroll che reagisce così di Domenico lo espelle spedendolo anzitempo sotto la doccia, così come accade ad un componente dello staff del Guionese dalla panchina. Al ventesettesimo i Neroverdi vanno ad un passo dal vantaggio, punizione velenosa di Marino che accarezza il palo e va sul fondo. Al quarantesimo però il Guionese completa il sorpasso, Tarquini si libera il tiro, Borreca respinge come può ma Sivilla non si fa pregare e insacca di prepotenza il 2 a 1 che fa esplodere i tifosi costretti come tutto il pubblico a restare ancora fuori dall'impianto. Nel finale un'altra opportunità per il Guionese con Abissina che chiama in causa Borreca il quarantacinquesimo e in pieno recupero il Boiano con l'ultimo anelito ci prova con Dinucci ma il suo colpo di testa termina alto. Alla fine feste in casa Neroverde per i quattro successi di fila ma al Boiano vanno gli applausi per una prestazione di spessore, ulteriore tassello di crescita per i rampanti giovani biancorossi.